Andiamo verso la città di Halloween. Questa parte della città di Halloween è più carina, almeno, oddio, più carina. Si gioca un po' di più. I need to find better assistance. Perfetto, ragazzi. Lend me a hand, won't you? Questi presenti devono ad Sandiclausi, quindi pensavo che i serviti. Hai appena trovato? Claro, Sora. Sono finito con fantasie Christmas, lo sai. Tutto questo? Ma pensavo che avresti avvicinato la sua. Cosa, questo? È solo un costume. E Sally ha lavorato così molto difficile per farlo. Come on, abbiamo lavoro da fare! Se lo vuoi, cata la pallata della zucca con noi. Ah, andiamo subito ad un altro video. Non mi ricordo... Oh! Onde hai trovato questi? In Halloweentown. Ti servirai per Christmas, certo Sandy? Certo. Certo. Ma questi sono solo alcuni dei presenti di Natale. Stolen? Oh, Sandy, non credi che sia io? Certo, guarda il vestito, vedo. Certo. Certo, pensavo che sarei vestiti per l'occasione. Ma, se non credi, allora dovremo sapere chi lo ha fatto. Molto bene, lo lascio a te. Allora, Sora, Donald, Goofy, siamo partiti! Quindi il nostro compito riguardo del corpo di Babbo Natale ancora non è finito. Mi sa di sì. Mi sa che Jack ha combinato con altre delle sue. E qua è bello vedere Jack vestito con l'abito di Natale. Cioè, raga, spettacolo. Spettacolo. Oh oh, video. Sì. 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 No, tu tre lo hai fatto! Di quanto? Ma hai fatto le presenti, non ti? Noi venivi… Ma… Ma… Siu veramente così divertente! Rampo! le note di rody rambo la solita sfida contro la dove la prendo come in kingdom hearts 1 questa volta rimasta rizzata anche le quali sono fatte molto meglio e dobbiamo mettergli sopra il regalo facciamo così, è arrivato a terra tra l'inizio il po' che lo lascio capire e ne ho capito e devi catturare va ora 3 l'unica cosa è che si possono liberare si possono liberare più fanno salti in alto più si possono liberare quindi bisogna anche sbrigarsi a prenderli preso ci sono soltanto l'ultima che è appena morto e dobbiamo raggiungere il corso eccolo aspetta 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 bamme te 8 oggetti finalmente è una cosa utile ragazzi dove avete messo i regali ce l'abbiamo detto non ce l'abbiamo noi e allora che cosa ci fate qui dentro stiamo cercando dei pezzi per l'esperimento che esperimento il dottore Finklerstein ci sta costruendo un amico da comandare a bacchetti in effetti il dottore stava lavorando a qualcosa di sodo ultimamente qualcosa di sodo sentiamo me stiamo lavorando solo a qualcosa ultimamente e poi i regali di Natale sono noiosi né paurosi né schifosi a che servono dare tanta felicità no? proprio così quindi non erano loro tre il problema allora quelle pesti sono rispondibili al frutto dei regali no questo che significa? Sally oh grazie a solo siete tutti qui qualcosa non va? ieri tre stavano passi nella piazza della città ho pensato che dovete saperlo tocca a noi let's go torniamo alla città di Halloween guardate proprio come contento con il suo vestito di palso in ero aspettate un attimo e cosa facciamo con i rubaregali? al dire il vero ieri stavano giocando con dei regali quando li ho visti ah ah ecco i nostri colpevoli bene 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 ce ne sono due o tre strada no aspetti ok capsula prima facciamo il volo non ci dobbiamo dare niente adesso dobbiamo farci avere il cristallo tranquillo capsula rara non mi interessa interessa capsula bonus facci qua no non ce l'ho fatto prenderlo cazzi va bene niente sono fassiosi fantasmi in tutti i giochi di chiamarsi fantasmi sono la cosa più fastidiosa so let's go you, you can't be here leave Halloween town by order of the mayor somebody, anybody i'm only an elected official i can't handle this by myself Sally was right we've got to get the presents ci sono quattro doni si ah ecco l'altro non l'ho visto l'ho appena visto e anche qui per su tutte le tessere molto contento e la potenza ma avete picchiato malissimo e le danno non le bra sta mossa vai così ecco l'ho già finito tempo dei secondi proprio what a shame it looks like it was such a nice present oh jack oh help someone help me my latest experiment is gone it's been stolen ero qui seduto a riflettere quando il promesso qualcuno mi ha salito sono svenuto e mi sono svegliato il mio esperimento non c'era più non si preoccupi dottore sappiamo chi l'ha preso chi è stato? sono stati gli heartless come? quelle cose a biette che strano non somigliava per niente a un heartless non sono stati gli heartless chi altro potrebbe essere stato? sentite un'idea all'altro piacciono i regali di natale quindi spargemo dei doni irresistibili per farlo cadere in trappola questo farà tutto lo stesso che rubato il mio esperimento proprio così come faremo a esserne certi? non lo sapevo non lo saremo beh solo facile lo spaventeremo fino a farlo confessare accidenti siamo per quei due impressionabili qualsiasi cosa e devi proseguire il piacere jack di ora andiamo subito a casa di babba nachele dobbiamo sbicarci preparare dei regali di natale e andiamo ci fa il cambio lui e me devo prendere la cazzo avete già trovato i regali? qua si signor nachele attiveremo in lato usando dei regali di natale come esco ti spiace restarci la fabbrica? dobbiamo regare qualche regalo doni come esco? accedervo lì non mi piace molto l'idea solo per questa volta è per una buona causa e vabbè se io do primo piano metteteci un po' di cuore mettiamo un po' di cuore ma più che il cuore devo andare a prendermi quella parte lì maledizione proprio qui c'era una missione mi sembra dove fanno i fini di fare i regali per un po' tipo 200 punti o cosa del genere poi dobbiamo fare due volte sì sì andiamo a fare i regali spai i giocattoli con il cannone vai spai i giocattoli con il cannone anzi è vero che devo cliccare tante volte c'è un secondo di ricarica se me l'ho dimenticato mi dimentico sempre e mi ho messo un 40 ricarica 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 grossi da 5 da 10 ok da 20 no ok non si riesce a fare quello da 20 devo fare quello da 20 andare oltre i 100 bad plan not quite there's more don't worry i'll take care of the rest sei pronto sei pronto per forza il tuo alfone fare gli altri regali azzer should work well for your plan now jack what is your plan i've got it all figured out you do of course and i also have a wonderful idea if we catch the thief for you i would be honored to deliver the cruiser and on that note we'll be going what are you doing let me go it's not me donald patience friends how come we have to be the beat good plan eh ouch gotcha Darrin go 词 dr finkelstein experiment gli veto unexpected allez andiamo ah questo è proprio che ho un sacco di danno sto coso questo è uno dei boss più rompi i cavi eh vabbè ciao ho dimenticato che il laser ti toglie metà vita eh ok io ci permette un sacco di tempi venendo dietro il laser vieni via vai via sorello vai via e perchè non si riattacca la testa purtroppo mi non so più che è un laser che ci fa un sacco di danni mi sa che metto valore infatti non gli tolgo nemmeno danni a sto bastardo nooo non conviene dimmi aia salta l'imbalzo vuoi consultare in quell'acchietà salta l'imbalzo salta l'imbalzo quello che fare è salta l'imbalzo oh ok si perchè c'è un sacco di posizioni questo healthless quindi le cambia sempre poi c'è poi dei strani c'è il laser non è un healthless ma l'esperimento nello sguardo lo metto negli healthless poi andiamo a vedere vai vai ultimo colpo salta l'imbalzo ok e mandagliolo in faccia e si è autobicchiato da solo buona sblocca sblocca tutto sblocca tutto sei ehi aspettano e ci picchia col laserone buona ok let's go chi usa veloce veloce hp prima partita hp hp e e e e e non 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 naturalmente non posso capire perché il esperimento del doctor iria a prenderci le presenti suo esperimento? il sogno è stato un spettacolo da Dr. Finkelstein hm, il doctor ha fatto un spettacolo vedo, è sempre tinkere con le cose ora, senti Jack vorrei ringrazio e mentre il prezzi di presenti è solo un po' che posso fare posso dare un'idea di quanto è come Sandi Clause sì, tutto il tuo potevo chiesto ha chiesto Ho 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 testa di zucca fortissima lo saremo per un sacco questa qui prima di un prossimo cambio quindi il potevo non è stato scoperto dopo tutto si è fuori si è fuori in altre parole il mio esperimento è stato un successo santa claus pensi magari è fuori perché era cercato di trovare un cuore questo è abbastanza è più possibile nonostante l'unico di sallia non era inutile con un cuore Ma se si chiede un cuore, perché si stava a prendere tutte queste presentazioni di Christmas? Probabilmente perché presentazioni sono un modo di dare un cuore a qualcuno speciale. Hmm, quando si diceva così, mi sento un po' malo per l'altro. Happy Halloween! What a nice present. I don't understand. There's no box, no ribbon tied in a bow. Jack, it's not about the box or the ribbons. It's about what's inside the box. No, Sora. What really counts, what's really special is the act of giving the gift. To wish deep in your heart to make someone else happy. Right. Of course. Thank you, Sally. You're absolutely right. Wait. What's this? I feel so strange. So very happy. Jack, that must be Sally's present. Really? This wonderful feeling? Oh, Sally. You've given me the nicest present in the world. And I've nothing to give you in return. What would you like? Jack? Just name it. Absolutely anything. The nicest present I could ever ask for, Jack, is just to be with you. You don't even have to ask for that. Oh. 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 Eh signori, anche questo mondo è andato. E poi finalmente vedevo un minimo di loro. Sorello bello. La città di Halloween. Abbiamo finito anche questo mondo, sì, ma per me ne abbiamo visto un minimo di lore. Il ricordo di Kairi per sora è ancora molto, molto forte, come è giusto che sia. Ma di altre cose importanti, c'è un cazzo in questo mondo. Oh, vediamo un castello finalmente. Non è ancora accessibile. Cos'è quello? Quel grosso coso. Uh. Quindi a Creposcopoli c'è qualche problemino, e immagino non solo, ecco. Uh. Sì. 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 Sì.